Presidente Boldrini, gli ultimi dati a Gcom sul tempo di parola riservato a uomini e donne ci dicono che nel mese di gennaio, sul Tg1, lo spazio riservato a delle esponenti donne è stato di 59 secondi, contro 1 ora e 41 minuti riservati invece ai colleghi uomini. Allora, i dati che lei ha citato sull'esposizione delle donne politiche rispetto agli uomini che fanno politica sono scandalosi, io penso, specialmente se si tratta del servizio pubblico. La par condicio dovrebbe essere usata anche tra i generi, perché non è possibile che chi fa politica e sia donna venga completamente oscurata, questi dati dimostrano che nell'immaginario delle persone la politica è fatta solo dagli uomini, invece solo in Parlamento noi abbiamo una presenza di oltre il 30% di donne che è bassa, considerato che noi siamo il 51% della popolazione ma comunque è un numero per la prima volta, forse è una rappresentanza di peso diciamo. A Madrid siamo al 65% di presenza femminile nell'esecutivo e a Parigi al 58%, quindi tutta un'altra cosa rispetto al nostro 17% che invece ci avvicina alla percentuale di Kabul. Il sottosegretario Spadafora che si occupa delle pari opportunità dovrebbe protestare energicamente rispetto ai dati che lei mi ha esposto e invece non lo fa e non se ne preoccupa. Quali minacce ai diritti delle donne vede oggi nel Paese? Questo governo ha messo in fila una serie di provvedimenti veramente raccapriccianti, se uno pensa al disegno di legge Pilon che vorrebbe riscrivere tutta la materia dell'affido dei bambini e delle bambine, peraltro per loro non è più previsto neanche l'assegno di mantenimento, allora in Italia solo il 49% delle donne lavora, quindi le madri che non lavorano non possono neanche permettersi di avere i propri figli con loro o le madri che non lavorano, quindi è un modo per terrorizzare le donne e per costringerle a non chiedere la separazione e il divorzio, addirittura questo disegno di legge prevede la mediazione anche in caso di violenza domestica, cosa che è vietata dalla Convenzione di Istanbul, c'è anche del resto la minaccia alla legge 194 sull'interruzione di gravidanza, cosa vogliono fare questi signori? Riportarci a quel tempo dell'aborto clandestino con tutti i rischi e i pericoli che questo implica per le donne? Sono stata una manifestazione sull'ambiente dove c'erano centinaia e centinaia di ragazze impegnate sulla tutela dell'ambiente, ma quelle ragazze che gli diciamo rimanete a casa e sperate solo di sposarvi bene? Caso Giulia Sarti, che cosa ci dice del paese? Questa è la nuova frontiera della violenza sulle donne, far circolare immagini intime di una persona senza il suo consenso è un reato, d'accordo? È qualcosa di illecito, in Italia manca la fattispecie specifica del revenge porn, come si chiama, come viene definito, c'è più di una proposta di legge, quella che io ho voluto raccogliere è quella che viene dalla richiesta delle persone, è una legge che raccoglie il volere di centomila persone che hanno firmato quella petizione e quindi l'abbiamo tradotta in articolato, poi c'è quella del gruppo Movimento 5 Stelle e c'è anche un'altra di Forza Italia, se al Senato questo procedimento già inizia l'iter che ci sia poi la volontà di accettare anche possibili emendamenti per arricchire il testo, perché io penso che si debba pensare sia all'educazione digitale delle persone, sia alla sanzione di chi commette questo reato, ma anche all'assistenza psicologica della vittima. Una delle sensazioni che si hanno è che in Italia venga appunto posto il problema della parità, però non ci sia un'adeguata rappresentanza delle donne, secondo lei è così? È vero che non tutte le donne si spendono per portare avanti le pare opportunità, perché temono di perdere autorevolezza agli occhi dei loro colleghi. Noi abbiamo una doppia responsabilità e come esponenti politiche, ma anche come donne. Come diceva la grande Madeline Albright, l'ha detto più volte, ecco, ci deve essere un posto all'inferno per le donne che non aiutano le altre donne. Grazie.